ed eccoci qui appassionati di cucina buon venerdì come sempre vi saluto da sesamo nero a pescara con la chef Letizia Monaco che oggi ci prepara cosa? Oggi facciamo delle crostatine di verdura molto semplici molto colorate molto gustose soprattutto molto versatili perché possiamo comunque mettere in borsa e mangiarle quando abbiamo fame allora di cosa abbiamo bisogno Letizia? Allora abbiamo bisogno di una pasta brisè perlomeno noi utilizziamo una pasta brisè che possiamo fare questa è fatta con farina, olio, acqua e un po' di sale oppure la possiamo comprare se proprio siamo pigri pigri poi utilizzeremo delle verdure, io ho scelto della barbabietola, delle carote e dei pisellini uovo, latte, delle erbette aromatiche, un pochino di senape perfetto, procediamo procediamo, allora prendiamo i nostri stampini questa mi ha detto cos'è, scusami, barbabietola l'ho tagliata prima perché sennò perde colore e qui facciamo, ci tingiamo di fucsia allora prendiamo la pasta brisè che io avevo già steso e riempiamo semplicemente i nostri stampini ovviamente se non abbiamo degli stampini può andare bene anche, possono andare bene anche quelli di... a parte che può andare bene anche uno stampo unico, che voglio dire, quello magari ce l'abbiamo tutti ah ok cioè facciamo un crostatone normale, sì, non è un problema quindi foderiamo i nostri stampini volendo possiamo utilizzare anche altri tipi di impasto, voglio dire magari pasta della pizza, pasta sfoglia ok ok, poi andremo a ritagliare allora nel frattempo ci proveremo il nostro ripieno e mescoliamo uovo latte un pochino di senape un pochino di sale ci ritiamo un pochino di fogliette aromatiche questo è basilico, prezzemolo e un pochino di menta se non sbaglio sottilmente giusto sì perché poi lo metteremo nell'impasto quindi insomma non ci ritroviamo la foglia di prezzemolo intera magari ora mescoliamo più che altro per far sciogliere bene la senape come arriva il profumo di basilico e menta che meraviglia profumo dell'estate sai che avevo proprio voglia di basilico che adesso si comincia un po' a trovare, è un pochino forzato forse però ecco ogni tanto sì il basilico è niente all'estate è il profumo dell'estate in cucina nel frattempo ci tagliamo la nostra carota la tagliamo sottilmente quindi con una mandolina o con un pelapatate in verticale giusto in verticale siamo proprio curiosa di vedere come andrai ad assemblarli allora cominciamo a riempire le crostatine allora innanzitutto togliamo l'eccesso ritiriamo poi i bordi ecco questa è una crostatina perfetta secondo me come aperitivo anche come finger food e anche come snack quando abbiamo un attacco di fame poi insomma anche abbastanza light perché comunque è fatta solo con verdure quindi anche molto leggera perfetta secondo me come spuntino di metà mattina sì 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 ma sai anche magari per un pranzo accompagnato da un'insalata chiaramente magari una porzione un pochino più grande ecco la nostra pasta si è seccata chiaramente però si taglia facilmente allora andiamo a riempire gli stampini ok questa va ovviamente cuocendo si si cuocerà allora non li riempiamo tutti perché poi andiamo a mettere le verdure e soprattutto in cottura si gonfierà visto che c'è l'uovo quindi diciamo un tre quarti abbondanti ma non di più ok e adesso ce li assembliamo così ah le mettiamo ma che belle e poi aggiungiamo anche le barbobiette sembrano quasi delle rose vero? sì bellissime chiaramente possiamo utilizzare le verdure che vogliamo per cui magari ecco anche le zucchine adesso che si cominciano a trovare sì quelle novelle bella questa idea di metterle proprio in questa direzione no? proprio belle chiaramente come dicevamo possiamo anche farla più grande quindi utilizzare una teglia grande e fare tutti i cerchi concentrici così con le verdure ecco magari con uno stampo più grande diventa forse un pochino più complicato diventa un pochino più allora a parte il fatto che magari dargli questa forma carina sì sicuramente però vedi comunque non lo stiamo mettendo in maniera regolare tanto quindi possiamo fare anche in maniera regolare tenderà chiaramente a rompersi come si va a tagliare poi in uno stampo grande quindi un pochino poi forse perde si sbriciona le verdure però ecco se non abbiamo voglia di fare mille e mille crostatine c'è sempre l'opzione stampo unico perfetto allora noi le inforniamo per una mezz'oretta buona perché comunque c'è bisogno che vedi che il ripieno è molto liquido quindi c'è bisogno di parecchio tempo e niente poi le caccio temperatura? temperatura più o meno su 180 ok 180 gradi per 30 minuti andiamo in forno ok ed eccole qui le nostre crostatine trascorsi 30 minuti il risultato è questo eccole trascorsi 30 minuti queste le abbiamo anche fatte raffreddare altrimenti appena sfornate sono anche molto più gonfie perché chiaramente l'uovo insomma gonfia ok noi ovviamente per tempi televisivi dobbiamo un po' anticipare le cotture però devo dire che sono bellissime ce le andiamo a sfornare ugualmente ce le impiattiamo così che belle quanto sei brava Letizia quanta fantasia questa è anche un'idea per un picnic per esempio adesso che cominciano le belle giornate da portare proprio da gita fuori porta esattamente bellissime per chi la domenica non lavora per chi la domenica non lavora guarda anche io spesso lavoro lo so lo so lo so però noi amiamo il nostro lavoro quindi va bene facciamo volentieri grazie a te e grazie a voi e grazie a voi a domani ciao i legumi è un alimento d'eccellenza hanno alto contenuto sia delle proteine che di carboidrati in più contengono la fibra insolubile che regola livelli di glucosio e di colesterolo nel nostro organismo grazie a te e grazie a tutti grazie a tutti